Per mantenere l'altissimo grado di pulizia richiesto nei moderni ambienti industriali, occorre lavare i grandi spazi pavimentati sui quali la polvere si deposita incessantemente. Una buona lavasciuga può essere un'ottima soluzione per svolgere il servizio di pulizia senza intralciare il normale corso produttivo. Per buona si intende una macchina affidabile, veloce e facile da guidare. Affidabile perché deve produrre pulito e non costi. Veloce perché i metri quadrati da pulire sono tanti. Facile da guidare perché l'operatore non debba essere, per forza, uno specialista. Questa RCM Metro che lave e asciuga perfettamente una larghezza di un metro e trenta centimetri, può essere la scelta giusta. Certo, per verificarne le doti vorrà provata a fondo, ma già da queste immagini se ne può apprezzare una qualità importante come la perfetta visibilità che l'operatore seduto davanti ha sull'area da pulire. Metro può raccogliere anche eventuali detriti solidi in un contenitore dedicato, facile da svuotare. Così come è semplice ispezionare e sostituire la spazzola di carico. RCM Metro. La grande lavasciuga, per la grande industria. Ciao. 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 Carmelo Ciao. Ciao. Grazie a tutti.